buongiorno squadra sono le sette di mattina è il 2 gennaio oggi e si inizia il 2021 non si vede ma sta diluviando pare notte pare sì ma gli vado a tagliare i capelli visto che le ultime storie su instagram con me sono tutti i messaggi ma che so sti capelli o mando vai ma di qua ma di là già avevo preso appuntamento però vi confermo il fatto che mi vado a tagliare i capelli scusate se parlo strano ma è mattina vi auguro un buon 2021 a tutti spero che quest'anno vi dia la forza per combattere tutte le sfide che vi verranno presentate davanti che si presenteranno nella vostra vita perché sono sicuro che ce ne saranno tante tante rotture di coglioni l'importante è essere abbastanza forti da affrontarle che non è facile però è il mio augurio per il vostro 2021 avete la mia benedizione che non vi serva un cazzo però ce l'avete se vostra la chiede che mi dite come avete passato capodanno io l'ho passato con i miei a vedere se lo spettacolo di brignano capine mi sono divertito cioè mi sono divertito ma ha fatto un sacco piacere comunque tanta fine perché sti cazzi di capodanno cioè almeno personalmente venga un cazzo why not quella la vera domanda perché no allora squadra ho finito di studiare stamattina ho fatto più o meno due ore poi cerco di farne altre due nel pomeriggio e adesso ci si allena e sente canzone un po malinconico mentre mi alleno a me metà una carica regà non mi giudicate questa playlist non l'ho scelta io sta su spotify e non è male pur questo esercizio lega per le gambe una svolta ho quasi finito l'allenamento i posi cicli che l'ho fatti o mancano bicipiti e faccio gli addominali perché io sono sicuro di essermi spiegato di merda ma questo proprio specifico allenamento non l'ho fatto spesso in realtà è la prima volta che lo faccio così di solito facevo cose più separate tipo sempre sei dai sei ai dieci round di gorda o petto e bicipiti il giorno dopo gambe spalle insomma più focus adesso vi sto facendo un po più generali per fare anche cardio e tutto quanto comunque ragazzi sono le 9 di mattina io ho colazionato ho fatto un nome metto a leggere un po penso proprio che il video finisce qua perché a fine legale giornate adesso proprio adesso in questo momento sono molto uguali cioè io mi sveglio faccio colazione mi leggo dieci pagine libri così per svegliarmi studio due ore ma alleno pranzo me vedo un'oretta dei video su youtube su come monta bene cose impara a fare riprese fighe veri metto a studiare legge fino a che ne arriva sera ceno mi guardo un firma mi metto nel letto leggo un altro po ma addormento e il giorno si ripete diciamo sono un po sono un po giornate monotone infatti sto un attimo delirante sto un attimo delirante però raga che toccava è così e speriamo questo virus del cazzo se ne va a fanculo buon anno